Si era sempre professato innocente da quando era entrato in carcere a Lecce lo scorso anno per scontare pene su reati contro il patrimonio e la persona. Per questo Virgil Cristria, 38 anni di Bucharest, arrivato in Puglia da Benevento, lo scorso marzo aveva deciso di attirare l'attenzione sul suo caso, iniziando lo sciopero della fame e chiedendo la sospensione della pena che non gli era stata concessa. Di qui la decisione drastica del digiuno assoluto che lo ha portato a non toccare più cibo per 50 giorni fino alla morte. Le sue condizioni di salute hanno cominciato a peggiorare fino al trasferimento dal carcere al Vitofazzi di Lecce, dove il 38enne rumeno si è spento. Sarà ora l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Intanto, il magistrato di turno, Carmen Ruggero, ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria dell'uomo in carcere.